Vai! 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 La rinancia con il gioco, famiglie non ne hanno perché gli bastano caffè e i porti e la gente che trova nel palazzo. Pappa! Ma vannonce ai nostri figli, di non fare le tulle ed è che voi farà cosa non ne ho fare. A vedere e a cercare tante immagini. Grazie a tutti. Non puoi uscire da nessuno lì, perché adesso ci vanno la strada, poco fuori da questa città, ci sta la porta per l'inferno, ma è bella come la libertà. Non puoi uscire da nessuno lì, ma è bella come la libertà. Grazie. Grazie.